Presidente Moschetti, una partnership che si rinnova per una squadra importante, anche per un valore sociale importante? Ma sì, noi abbiamo, come l'ho detto l'anno scorso, quando abbiamo iniziato questa avventura insieme alla Virtus Femminile, investire nello sport femminile significa, nello sport in generale, nello sport di squadra, significa investire nei valori che lo sport rappresenta. Quindi il rispetto, l'etica e anche e soprattutto essere orientati verso il risultato, verso il sacrificio, quindi penso che siano abbastanza speculari a quelli che sono i valori che hanno in mano anche il business e comunque la nostra azienda. Coach Serventi, un buon esordio, una partnership che si rinnova, insomma sono tutte le premesse per che sia un bel campionato. Siamo molto contenti, sia dell'esordio che della partnership che si rinnova, il campionato siamo partiti bene, però sicuramente giovedì avremo un avversario molto tosto come Ragusa, quindi dobbiamo vivere le partite volta per volta. Il gruppo è sicuramente, le ragazze sono un ottimo gruppo, il gruppo ha voglia di provare a fare sempre bene, però dobbiamo sempre pensare in grande, dico io ma con grande umiltà, perché comunque questo campionato è molto insidioso, molto competitivo e quindi dobbiamo stare sempre allerta.